Michele Di Giacomo, Loris Fabiani, sono nato a Cesena, Milano, io ho 31 anni, anch'io, e tu, anch'io, viva Milano, ho fatto la Polo Grassi, viva Milano, ho fatto Silvio D'Amico, perché abbiamo fatto la Tella? perché l'abbiamo conosciuto a un altro laboratorio e vogliamo seguirlo ancora, sì perché è l'unico in Italia che fa lavoro su attori diversi rispetto agli altri registi, agli altri registi, anche devi avvicinarti, vedo lo stesso, avvicinati anche tu, ciao, 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 ciao. Grazie a tutti.